Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo piccolo tutorial vi spiego come disattivare questi programmi all'avvio perché ci sono parecchie persone che all'avvio di Windows si avviano anche altri programmi, una decina di programmi che danno anche un po' fastidio quindi molto semplice, andiamo qua sopra nella barra delle applicazioni, chi ha Windows 10 e qua su Windows 11 basta che trovate gestione attività una volta andate su gestione attività fate avvio e qui ci sono tutti i programmi che si avviano quando si avvia Windows ok, quindi come potete vedere io ho disabilitato Origin, disabilitato Steam quindi basta andare qua sopra, abilita, disabilita e per sicurezza riavviate il PC, ok, molto semplice, invece Discord se volete tenerlo abilitato io ve lo consiglio tenetelo abilitato, Steam disabilitatelo, Origin disabilitatelo, tutti i launcher usati per giocare altre applicazioni inutili ad esempio, che ne so, applicazioni che non usate, oppure programmi editing a che serve? All'avvio di Windows già si avvia il programma per editare, di dare copertine, di dare video a che serve? Noi quando avviamo il PC controlliamo, che ne so, email, cose ricerche iniziamo a giocare, facciamo cose così, cominciamo anche a creare, vabbè comunque se questo video ti è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti al canale, di lasciare un like che se ti serve qualcosa, entra nel server Discord, un programma, un gioco free entra nel server Discord, ne siamo più di 900 membri e niente, quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!